Il presente si chiama Brescia, il posticipo di lunedì sera e la possibilità di mantenersi nelle parti nobilissime della Serie B. Ma è chiaro che il futuro prossimo diventa ogni giorno che passa argomento d'attualità. D'altronde si passa per forza di cose dalla conferma tecnica. Zeman è stato chiaro qualche giorno fa. Vabbè, io continuo a dire che sto bene a Pescara e spero che si potrà continuare. Siamo vicini al seggio. Non lo dico, non ci sono tempi. Io ve l'ho spiegato all'inizio, voi non lo volete capire. E la dirigenza del Boemo vuole tenersi allo stretto. Ieri sera incontro a cena tra il tecnico e i massimi esponenti del sodalizio bianco-azzurro. Ancora presto per parlare di rinnovo dell'accordo, ma la buona volontà da ambo le parti c'è e come. Dopo Pasqua se ne saprà qualcosa in più e il pur parler potrebbe lasciare spazio al nero su bianco. Capitolo a parte merita il settore giovanile. Da qualche giorno al poggio degli olivi fa Capolino Ubaldo Righetti, l'ex difensore bianco-azzurro, ora commentatore Rai. Lui che sulla panchina dell'angolana a stagione 99-2000 sfiorò la vittoria di un campionato e la promozione in C2 potrebbe rientrare nel clan del Delfino con un posto di rilievo proprio nel settore giovanile? Ipotesi al momento nient'altro. Certo che l'amicizia col presidente Sebastiani vorrebbe rappresentare un buon viatico, ma anche questi sembrano discorsi a venire. Infine, sempre a proposito di giovani, nell'avichevole con l'angolana ha esordito con la maglia bianco-azzurra il brasiliano Fabio Augusto Cracco Cavalcante, cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro. Esperienza a Taranto a novembre in Lega Pro, in prova esattamente con la stessa formula con cui arriva in casa Pescara. Centrocampista con spiccate doti offensive, ma bravo anche in fase di interdizione. Zeeman lo terrà d'occhio per verificare se il verde oro potrà avere una chance anche in Serie B.